Sono uscita con lui perché mi piaceva. Ci siamo baciati, poi... Poi... Tutti sapranno cosa mi ha fatto. Non so perché adesso sta dicendo tutto questo. Non so perché adesso sta dicendo tutto questo. Tuo padre non farebbe mai una cosa simile a una donna. Sta mentendo? Sta mentendo. In prima solità, non mentire. Prossimamente su Canale 5.